Oltre 30 gli ettari di bosco andati in fumo, 100 sganci d'acqua effettuati dall'elicotteri in volo, 40 uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento sono questi i numeri del vasto incendio che è interessato dalla giornata di ieri il monte Urano, nella zona compresa tra i comuni di Goriano Sicoli, Raiano Casteldieri. Le prime fiamme sono state notare dai residenti intorno al mezzogiorno di ieri quando si è alzata una colonna nera di fumo. Sul posto sono quindi intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Sulmone e dell'Aquila assieme a 28 volontari di protezione civile muniti di 8 pick-up, un elicottero messo a disposizione della regione Abruzzo, un elicottero Ericsson della flotta dello Stato, un Canadair oltre a due mezzi per il rifornimento idrico. Il rogo si è sviluppato su diversi fronti della montagna che si trova tra la valle Pelini e la valle Subequana, messa in pericolo anche la Pineta. L'allerta non è cessata dal momento che il direttore per operazioni di spegnimento il DOS ha concentrato le forze su Casteldieri, fronte che preoccupa questa mattina dal momento che durante la notte le fiamme non hanno dato tregua. La situazione resta critica, mentre la situazione appare in via di risoluzione sui versanti di Raiano e Goriano Sicoli, che ieri hanno tremato, tant'è che è stato chiuso anche il bivio di collegamento per tutelare i soccorritori, ma anche gli automobilisti. Il rogo ha avuto anche ripercussioni quindi sulla viabilità. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Sulmone ha aperto un'inchiesta. Un sopralluogo sul posto è stato effettuato la settore della polizia giudiziaria, dei carabinieri forestali che hanno svolto rilevi fotografici non solo per capire la natura del rogo. Le indagini dovranno chiarire se l'incendio è scoppiato per cause colpose o meno, come era avvenuto nel 2011 quando andarono in fumo 100 ettari di bosco. L'ipotesi più accreditata al momento è che tutto sia partito da una motocross che avrebbe fatto da Miccia. Due persone sono state recomerate in montagna nella giornata di eri dei Vigili del Fuoco dell'Aquila in Alto Sangro nella Valle del Sagittario. La domenica di metà luglio è incentivato le uscite fuori porta, soprattutto per staccare la spina dalla routine quotidiana, dal caldo torrido delle grandi città, ma gli interventi in alta quota non sono mancati. La prima operazione è stata effettuata sul territorio comunale di Vescassero, lì quando intorno alle 11 di eri una donna austriaca di 61 anni, in compagnia di un minore di 11, ha chiesto aiuto al numero di emergenza dove aver perso l'orientamento. Tramite le coordinate del telefono cellulare i Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzarla e hanno recuperato la donna e il bambino in elicottero. Entrambi, anche se spaventati, stanno bene, non hanno avuto bisogno delle cure mediche. Recupero fotocopia ad Anversa degli Abruzzi. La gita in montagna per un turista di 49 anni è finita con un attacco di panico, anche in questo caso per aver smarrito la via di casa. L'uomo che era da solo è stato recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. In buone condizioni di salute è stato rifocillato, soccorso, ma non si sono rese necessarie le cure ospedaliere. Gli esperti ricordano, prima di avventurarsi per l'escursione in montagna, di consultare il bolettino meteo, attrezzarsi con equipaggi necessari, laddove possibile, recarsi in montagna, sempre accompagnati. L'Ater ordina lo sgombero di una palazzina. Un passo dall'assegnazione degli alloggi popolari accade in via Aldomoro a Sulmona, dove monta la protesta dei residenti, soprattutto di coloro che sono in graduatoria, per ottenere un alloggio. Nel condominio vivono quattro nuclei familiari, composti per lo più da persone ultra settantenni. L'altro giorno l'Ater, proprietaria della palazzina, ha comunicato al comune che l'intero stabile deve essere sgomberato per improrogabili interventi di messa in sicurezza. Sarà compito dell'ente a stretto giro trovare un nuovo alloggio. Sul posto si sono presentati il sindaco Gianfranco Di Piero e il comandante della polizia locale Domenico Giannetta per darne comunicazione ed è scoppiata la protesta. Una donna ha perfino accusato un malore, tanto che sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 per prestare le cure necessarie. Nessuno ci ha spiegato il perché di questo sgombero. Vogliamo leggere le carte? È un nostro diritto? Ci devono dire se c'è un problema statico e se questo trasferimento è davvero necessario. Tuonano i residenti pronti ad adire le vie legali, se sarà necessario. Secondo gli abbinanti della palazzina, lo sgombero deciso dall'Ater rischia di allungare anche i tempi per l'assegnazione delle case popolari. Il comune aveva infatti emanato un bando nel 2021. La gradatoria è diventata definitiva nel 2023 e l'assegnazione materiale degli alloggi è prevista proprio nei prossimi giorni. La sensazione è che l'ultima disposizione possa allungare ulteriormente i tempi e più che concreta, soprattutto secondo una delle inquiline che vive con quattro figli a carico in condizioni igienico-sanitarie precarie, come recentemente messo nero su bianco dal servizio di prevenzione dell'Aslo 1. Una storia insomma che da via al Moro potrebbe finire in piazza Capograssi. Un soggetto così non può andare in giro, visti i precedenti, va assolutamente fermato, lo affermano i familiari di Gianni De Angelis, il presidente del Sumona Volley di 74 anni, finito in rianimazione dopo la ride per il parcheggio è venuto in via Patini lo scorso 28 giugno. I familiari di Gianni hanno incaricato gli avvocati Marcello Pacifico e Vincenzo Di Girolamo per seguire la vicenda in tutte le sedi, a distanza di alcune settimane dall'episodio, chiedono di fermare il presunto aggressore, ovvero il commerciante di 52 anni che è stato scritto sul registro degli indagati per lesioni gravissime, aggravate e dei futili motivi. Sul tavolo della procura ci sono le testimonianze della dottoressa Le 118, a cui De Angelis aveva riferito il nome del suo aggressore, e di un paio di testimoni che hanno notato il 52enne mentre discuteva in maniera animata con il coach di Volley. L'indagato, che al momento è stato solo identificato, aveva negato le botte, spiegando di essere uscito fuori strada dalla sua attività dopo la caduta del 74enne e di averlo soccorso, versione che non coincide con le testimonianze finora raccolte le carabinieri che stanno indagando sul caso. Le condizioni di Gianni intanto restano gravi. Rianimazione De Angelis c'era finito dopo la caduta nella stanza di degenza della neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, circostanza anche questa al baglio degli inquirenti, poiché potrebbe aver angravato il quadro clinico. E' stato denunciato per maltrattamento. Il 54enne di Sulmona ha già noto le forze dell'ordine che l'altro giorno ha picchiato la madre con pugni e schiaffi in pieno volto. I carabinieri della compagnia di Sulmona lo hanno deferito a piede libero all'autorità giudiziaria in attesa di ulteriori determinazioni. La donna, una settantenne, è stata ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti, viste le conseguenze dell'aggressione che fortunatamente non sono gravi. E' probabile che la donna, dopo aver rifiutato la protezione nelle scorse settimane, sarà ricollocata in una nuova struttura protetta, lontana, almeno si spera, dal figlio violento e disabile. Una situazione delicata che l'autorità giudiziaria vuole affrontare per evitare serie ripercussioni. L'aggressione dello scorso venerdì dopo la lite in piazza Carlo Tresca è stata brutale. Pugni e schiaffi sul volto, la maglia sporca di sangue, come raccontano i residenti della zona che hanno assistito in parte alla scena. La settantenne è rimediato ecchimosi e trauma fracciale, la proniosi provvisoria è di 15 giorni, ma ulteriori consulenze sanitarie sono in corso. Si è spento a 69 anni Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi sul Terino, al terzo mandato consecutivo che stava lottando contro un brutto male. Lagatta, che era stato eletto per la prima volta nel 2009, subito dopo il terremoto dell'Aquila, è stato il sindaco simbolo per la bonifica della discarica più grande d'Europa. Fu scoperta nel 2007, ma ancora continua a contaminare un territorio situato tra i parchi nazionali. La procura di Pescara e i forestali, proprio in quell'anno, avevano scoperto l'enorme quantità di rifiuti industriali interrati in un terreno di proprietà di Edison, poco a valle rispetto all'industria, proprio alla confluenza tra i due fiumi. Così il sito diventa noto come la discarica abusiva tra i monti, quella che viene definita la più grande d'Europa, 130.000 metri cubi di rifiuti in 35.000 metri quadrati. La scoperta dell'inquinamento di Bussi aveva dato il via al procedimento penale nei confronti di 19 persone, soprattutto dirigenti e tecnici legati al polo chimico, accuse di disastro ambientale. Il primo grado nel 2014 era terminato con l'assoluzione delle imputati, nel secondo grado nel 2017 erano state condannate 10 persone. Nel 2018 la Corte di Cassazione aveva ribaltato ancora la sentenza assolvendo le 10 persone condannate, 6 di loro per prescrizione. Per quanto riguarda la giustizia amministrativa invece gli enti pubblici hanno avuto la meglio ed Edison deve pagare la bonifica delle discariche 2A e 2B. La gatta come sindaco ha affrontato le delicate questioni della rigenerazione dei siti e proprio lo scorso primo luglio aveva fatto il punto della situazione. I risultati di questi tre anni di bonifica sono innegabili, per noi è stata una sorpresa, ci siamo dovuti ricredere, aveva detto, rimarcando che rimangono fuori purtroppo la 2A e la 2B per le quali manca un piano esecutivo. Il nostro obiettivo è quello non solo di bonificare ma anche di ridare vita a questo sito. Scompare quindi il volto della battaglia ambientale. Le redini del comune passano a vice sindaco fino a nuove elezioni che si svolgeranno nella prima data utile. Dopo oltre 50 anni dall'uscita del primo film lo chiamavano Trinità e del suo sequel continuavano a chiamarlo Trinità, girato in parte fra le montagne abruzzesi, arriva la conferma di Terence Hill sul già annunciato ritorno del leggendario pistolero degli spaghetti western. La notizia era già trapelata in un'intervista con il Corriere della Sera e rilanciata durante il festival in onore di Bud e Terence a Gubbio qualche mese fa. Spero che con il vostro spirito e desiderio di vedere un altro western, noi stiamo cercando di scriverlo perché non è facile, però forse ci riusciamo grazie anche alla vostra volontà, al vostro desiderio di vedere un western ancora fatto divertente e anche solo bello. Terence ha confermato che il nuovo film sarà pronto entro un anno e l'ho fatto durante un evento in memoria del suo amico e collega Bud Spencer ad Amelia in Umbria dove l'attore è tornato dopo un periodo di vacanza negli Stati Uniti. Hill ha rivelato che il titolo del film è già stato scelto ma che rimane ancora segreto. In un primo momento annunciato come Trinità, la suora e la pistola intreccerà la storia di Trinità con personaggi reali del West, tra cui Billy the Kid. Anche il nuovo capitolo sarà girato tra le montagne abruzzesi. La trama promette di essere avvincente con Trinità che si ritrova coinvolto in nuove avventure insieme a una suora e al famoso fuorilegge. Questo nuovo progetto rappresenta un ritorno alle origini per l'attore che ha interpretato Trinità per la prima volta nel 1970 creando un personaggio iconico e amato dal pubblico di tutto il mondo. L'annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan che attendono con impazienza di vedere Hill tornare nei panni del pistolero malvestito e scansafatiche. Questo progetto non solo celebra la carriera di Terence Hill ma anche l'eredità del genere spaghetti western che ha segnato un'epoca del cinema italiano. Con questo nuovo film Terence Hill dimostra ancora una volta la sua passione per il cinema e la sua capacità di reinventarsi mantenendo viva la magia di Trinità per le nuove generazioni.